Buongiorno a tutti, mi presento, sono l'avvocato Francesco Ciabattoni e in questo momento sono presidente della Fondazione Rete Lirica delle Marche, una fondazione che mi onoro di rappresentare, una fondazione importante che produce opere liriche di grande qualità e che è impegnatissima con un programma, anch'esso molto importante e molto articolato, di migliorare, impegnatissima, migliorare ancora di più la sua immagine e ancora di più la qualità del suo prodotto. Quindi sì, il nostro impegno è quello di aumentare la qualità, di divulgare sempre di più la cultura della lirica, perché la cultura della lirica è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Quindi non possiamo dimenticare che con questo biglietto da visita noi riusciamo ad entrare in tutti gli ambienti mondiali in maniera vincente e tutto questo quindi lo vogliamo completare perché capiamo perfettamente che tutto questo che stiamo facendo non va disperso soltanto e rimanere nell'ambito delle mura teatrali, quindi a uso e consumo degli appassionati della bellezza, ma che debba uscire da quelle mura, uscire da quelle mura e coinvolgere, coinvolgere tutte le forze produttive, tutti coloro che vogliono la ripartenza del nostro Paese. Quindi noi siamo impegnati come tutti in un discorso di ripartenza. Ecco qual è il motto oggi della nostra rete lirica, impegnarsi con tutte le forze produttive per fare un discorso insieme, tutti insieme, di ripartenza sia nell'immagine, sia nella qualità e sia nell'interesse nei confronti di un nuovo discorso che possa veramente coinvolgere gli italiani e tutti coloro che ammirano l'Italia come il Paese della bellezza. Qui ci sono l'assessore Latini che ringrazio per essere venuta e per partecipare a questo nostro incontro stampa, c'è il direttore Messi che ha lavorato moltissimo in tutto questo tempo e gli diciamo grazie e poi c'è il direttore artistico il maestro Alessio Vlad che tutti conoscete e che non non ha bisogno assolutamente di presentazione per la sua fama. Vi ringrazio per la pazienza, passo la parola all'assessore Latini. Bene grazie, grazie e per me oggi è un piacere ospitare questa conferenza stampa della rete lirica proprio per dare questa valenza regionale a questo ente che dà lustro all'intera regione Marche per quanto concerne la qualità anche degli spettacoli. Io quando è nata la rete lirica ero assessore alla cultura di Ascoli Piceno quindi l'ho vista nascere e adesso insomma la sto vedendo crescere sempre di più proprio veramente a livello di qualità degli spettacoli. Come regione Marche sapete che stiamo facendo a livello culturale proprio una strategia di rete anche attraverso i teatri, attraverso anche i nuovi bandi che stiamo mettendo in campo per esempio Marche Storie con il Festival dei Borghi che mette in rete i comuni. Quindi la strategia della rete è sempre vincente perché innalza la qualità delle progettualità e più che altro si dà maggior risonanza ai progetti che diventano di valenza regionale quindi anche a livello di comunicazione si ne beneficiano i vari comuni ovviamente che partecipano a queste reti. Quindi la rete lirica sicuramente sta crescendo ma io spero che con il tempo cresca ancora di più magari con nuovi comuni che possano sempre vedere vedere questo soggetto come un soggetto che può dare valenza, importanza al comune stesso. e proprio poco tempo fa lo dicevo prima il ministro Franceschini insieme al sottosegretario Borgonzoni hanno lanciato proprio la candidatura del Belcanto come candidatura immateriale come riconoscimento UNESCO e adesso invece noi come Regione Marche stiamo iniziando a lavorare a questo dossier sulla candidatura dei teatri dove hanno aderito ben 60 teatri o meglio è il ministero che ha selezionato questi 62 teatri storici per un totale di 60 comuni. Quindi anche qua stiamo facendo questo discorso di rete che poi si sposa insieme anche a questa candidatura a livello nazionale del riconoscimento della lirica. Quindi significa che c'è veramente adesso tanta attenzione sul mondo della lirica a livello nazionale. Anche noi come Regione stiamo dando sempre di più attenzione stiamo puntando con delle azioni strategiche per rilanciare il teatro che poi è la sede dove la lirica insomma prende vita e quindi penso che tutte queste iniziative vanno a braccetto, vanno di pari passo e si rafforzano a vicenda e la fondazione della rete della rete lirica delle Marche è sicuramente un soggetto fondamentale anche per la completezza di questa candidatura che interessa questi 60 comuni che da lustro, che accresce anche questa questa candidatura che stiamo appunto mettendo in campo e ricordiamo anche che un primo risultato importante è stato raggiunto perché siamo entrati nella tentative list e quindi significa che l'ufficio UNESCO già riconosce questa possibilità di riconoscimento perché sennò non saremmo mai entrati perché ci sono tante candidature che hanno già dei dossier completi ma che non sono neanche riusciti a entrare nella tentative list invece noi ci siamo riusciti subito dopo neanche due mesi che lavorevamo a questo progetto perché significa che la nostra regione ha veramente questa tradizione insita proprio nelle sue radici nella sua identità del teatro perché abbiamo più teatri di tutta l'Italia del sud rispetto al numero degli abitanti e rispetto al numero dei comuni del nostro territorio e quindi è un unicum a livello mondiale che insomma si presta a questo importante eh riconoscimento quindi sono contenta di presentare qui insieme al presidente eh ciabattoni insieme al direttore Luciano Messi che ringrazio che è stato un po' l'anima della fondazione perché è stato lui che mi ricordo benissimo quando insomma ero assessore che eh ha dato impulso a questa a a questa rete eh ringrazio il direttore artistico Alessio Vlad come ringrazio i comuni ovviamente che hanno dato vita a questa rete al comune di Ascoli saluto Donatella Ferretti alla fondazione eh di Fano eh perché comunque è un altro soggetto appunto che eh partecipa dall'inizio a questo bellissimo progetto a fermo eh saluto anche eh eh Sal Salucci perché eh insomma eh qua è importante anche la presenza dell'orchestra sinfonica Rossini e quindi ecco mi sembra che ci siano le basi per una bellissima stagione di rinascita dopo un periodo difficile per lo spettacolo dal vivo e quindi grazie veramente a tutti per eh insomma aver fatto un'altra volta un programma di altissimo livello grazie 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 veramente assessore per le sue bellissime parole e vorrei anche un momento ringraziare per la partecipazione l'assessore al comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti che è qui presente che vediamo qui davanti a noi poi c'è anche il consiglio direttivo della rete lirica con la vicepresidente Katia Amati e il membro del consiglio direttivo autorevolissimo anche lui Trasatti Francesco grazie di essere venuti. Ecco adesso. Alessio. Alessio prego. Parlo io. Io sono così contento di sentire le parole dell'assessore perché sono tanti anni che ormai io sono qui nelle Marche ma fin da quando ormai sembra il 2004 più o meno sono venuto qui al teatro di Ancona mi ricordo che la prima cosa girando le Marche la questa unicità della regione con con tutti questi teatri non c'è non in Italia ma non c'è luogo al mondo che ha una tale concentrazione di teatri e soprattutto di teatri di questo di di questa di questo livello architettonico allora i teatri naturalmente devono devono vivere e e una delle ragioni per cui la rete dirica delle Marche c'è è proprio far vivere questi teatri meravigliosi sono uno più bello dell'altro i teatri delle Marche e soprattutto sono teatri funzionali alla lirica perché la lirica è stata il melodramma è stata è stato il grande genere di spettacolo per cui questi teatri sono stati costruiti sono tutti teatri la maggior parte dei teatri con la loro fossa orchestrale con i loro ordini dei palchi è quasi commovente girare per le Marche e vedere che ogni paese è anche il più piccolo al suo teatro è una è un indice di civiltà di grandissima civiltà sempre il civilissimo pubblico delle Marche questo scritto è una volta un famoso critico musicale italiano qual è la filosofia perché c'è un disegno un percorso ben preciso dietro la programmazione della rete lirica che con Luciano Messi stiamo portando avanti ormai da diversi anni dal 2018 e qual è non mettersi in competizione con le grandi fondazioni liriche con i grandi festival ma di creare le condizioni affinché una nuova leva di interpreti si possa confrontare non solamente con il grande repertorio e quest'anno voi vedete negli anni successivi perché noi quest'anno presentiamo un programma triennale fatto composto dal Marche della Traviata quest'anno la Tosca e la Norma l'anno prossimo e Rigoletto e Cavaliere Russicana nel 2024 2025 quindi titoli di grande repertorio ma in cui delle nuove leve della lirica degli interpreti si confrontano vengono guidati da personalità di grande comprovate esperienze come nel nostro caso quest'anno nel Marche da Luigi Pizzi che è una figura che ovviamente parliamo di una delle più grandi figure degli ultimi che hanno avuto un'attività negli ultimi cinquant'anni nel mondo della lirica del teatro e dello spettacolo non solo italiano ma di tutto il mondo che ha lasciato un segno molto profondo in un modo di fare spettacolo in generale e che guiderà dei nuovi interpreti per esempio Margaret, il direttore d'orchestra Diego Ceretta, Diego Ceretta io l'ho conosciuto come assistente di Daniele Gatti diversi molti mesi fa e immediatamente mi ricordo che ho chiamato Luciano Messi e diceva questo ragazzo è la persona giusta per farlo debuttare con un titolo importante nella rete lirica è di classe 96 quindi quanti anni c'ha meno di 30 26 anni quindi capite bene cosa significa questo insieme a Pizzi che sicuramente lo saprà guidare nel modo migliore per quello che affrontare uno dei capolavori più complessi in qualche modo di rappresentazione ricordatevi che col Macbeth si aprì il festival di Spoleto negli anni fine anni cinquanta con un giovanissimo direttore che era Thomas Cipers che nessuno conosceva ancora e con la regia di Visconti un po' con cantanti assolutamente nuovi assolutamente sconosciuti questa è l'operazione Davide Luciano non è un cantante sconosciuto è uno dei grandi importanti baritoni della nuova generazione ma è la prima volta che si cimenta con un titolo di del grande repertorio verdiano accanto a lui Lidia Friedman soprano anche lei all'inizio della carriera ma che già ha avuto delle importanti 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 cimenti tutti superati in modo egregio e due cantanti nuovi come Matteo Roma e Vassili Solutchi questo è il principio della rete appunto mettere insieme dei nuovi figure davanti a dei titoli complessi potendo avere le condizioni per poter debuttare condizioni di tranquillità di ehm sostegno e che potranno poi probabilmente speriamo farli progredire come debbano progredire nella loro carriera secondo titolo in collaborazione con l'opera eh Lombardia e in collaborazione con l'opera Europa Traviata Traviata altro grande titolo del repertorio noi avremo un nuovo cast rispetto a quello che è eh il cast che ehm si esibirà nei teatri lombardi un soprano di enorme talento Karen Gardebal che ha già debutato Donna Anna allo Sferi Stadio di Macerata in tempi recenti che con Livermore e con grandissimo successo e la Gardea Zabal debutta da noi un titolo in Italia topico in qualche modo pericoloso come Traviata. Accanto a lei due cantanti di nuova generazione come Alfredo Valerio Borgioni e Andrea Borghini nel ruolo di Alfredo e del padre Germont. Anche qui direttore di nuova generazione Enrico Lombardi regista di nuova generazione Luca Baracchini come dire è sempre una operazione sempre una via di poter mettere delle preparare dei nuovi delle nuove figure in quello che è la necessità di un ricambio nel repertorio nel grande nel grande repertorio eh lirico. Non do sottovalutare e da sottolineare il progetto didattico insieme fatto in collaborazione con l'aslico che da tanti anni si occupa di modo continuativo in modo con grande energia di quella che è la didattica e quella che è la formazione del pubblico perché come dire c'è una formazione del pubblico con due spettacoli uno che in qualche modo è legato alla cenerentola di Rossini e uno legato al flauto magico di Mozart. Sono due spettacoli che saranno una sintesi di questi di un'operazione fatta su questi due importanti eh titoli anche questi con forze giovani proprio per la formazione del pubblico. Non ne sappiamo come nel nostro paese l'educazione musicale purtroppo nel paese che poi ha inventato il melodramma e in cui il melodramma si è identificata gran parte della cultura italiana del secolo scorso e di oggi anche come latiti la educazione musicale in qualche modo le istituzioni hanno il dovere di poter formare un nuovo pubblico. Renderlo informato soprattutto perché poi la cosa importante è avere una... l'opera è una... la musica è un genere che dà emozioni ma l'importante è che queste emozioni siano in qualche modo ben canalizzate che ci sia una consapevolezza di quello che si ascolta e che non ci si lasci solo trasportare dalla dall'estinto e dal eh sentimento. Saranno con noi sempre la ehm le due orchestre marchigiane, l'orchestra Rossini che qui vedo rappresentata, l'orchestra filarmonica delle Marche, i cori di Ascoli, i cori di Fano, come dire è tutta questa regione che ha questa vocazione storica, ripeto, grazie ai teatri che ci sono verso la musica, verso l'opera, che concorre tutte insieme a formare una eh una rete cui ci auguriamo soprattutto presentando oggi nei prossimi due anni dei titoli che sono dei titoli che ogni teatro aspererebbe a fare, ripeto, Tosca, Norma, Rigoletta e Cavaleria che ci siano anche teatri che siamo pronti e ci auguro che si vorranno unire un noi in questa in questo percorso e in questa sfida. Grazie. La parola va al direttore Messi. Grazie presidente, grazie a tutti, buongiorno anche a chi è in collegamento. Il programma è stato ampiamente illustrato anche nelle sue linee eh concettuali, quindi sottolineo alcuni elementi del del lavoro della rete lirica delle Marche e della condizione in cui ci troviamo oggi. Ecco innanzitutto la regione Marche è eh è la nostra casa e in questo oggi è veramente un momento speciale nel ritrovarci coi colleghi di lavoro del consiglio direttivo che ringrazio perché davvero non è solo una dinamica consiglio direttore presidente direttore artistico ma è proprio un tenace e quotidiano lavoro insieme per ottenere dalle qualità e dalle sensibilità di ciascuno il meglio davvero eh così è nata e così è e mi auguro sarà la fondazione rete lirica delle Marche. Eh oggi finalmente noi stessi ci ritroviamo in presenza dopo tempo eh in qualche caso c'eravamo rivisti a teatro perché la fondazione non si è fermata alcuni spettacoli sono stati fatti e hanno toccato come come nostra tradizione tutti i territori i tre teatri da da Fano a Fermo a Scolipiceno eh però un momento di così di ritrovo in cui eh ripresentare pubblicamente il lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi di ehm ricostruzione e riavvio dell'attività della fondazione eh non c'era ancora stato e fondamentale eh poterlo fare nella casa madre ed essere accolti eh dall'assessorato e dalla regione. Giorgia poi è stata un po' la 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 madrina della rete lirica eh nel senso che l'ha vista svilupparsi fin da quando ancora non era rete lirica, fin dal dagli anni eh fatti come coordinamento di più ehm diciamo di più di più soggetti produttivi eh riconosciuti dal ministero qualcuno con con costanza insomma qualcuno in maniera eh alterna ad anni ad anni alterni diciamo così ma che è stato quel lavoro che dal 2015 al 2017 ha preparato il terreno per la costituzione della fondazione eh quindi ecco per noi oggi è un momento particolarmente significativo e c'è anche un'energia speciale data da questa compresenza di tante persone che in questi mesi sottotraccia però con io credo con costrutto hanno lavorato insieme. Si presenta un lavoro di medio periodo che non solo vuole ripartire ma vuole ripartire rilanciando quindi il cartellone di quest'anno è molto dettagliato e è stato appena illustrato e rappresenta eh in pieno quella che è la 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 linea eh concettuale della fondazione ehm diventa tutto molto leggibile anche per il futuro cioè cartelloni che eh prevedono un doppio titolo d'opera uno verso diciamo un ottobre novembre uno a febbraio indicativamente prevedono in modo strutturale la presenza di spettacoli legati a percorsi formativi eh per le scuole per le famiglie e quindi non più episodica quando e dove si può ci sarà una loro collocazione solitamente verso la fine della scuola quest'anno abbiamo un doppio progetto perché c'è Cenerentola che che non vogliamo perdere nonostante la pandemia quindi quest'anno ci sarà un doppio appuntamento dopodiché la collocazione eh dei progetti di formazione sarà sulla fine dell'anno scolastico quindi ogni anno a maggio il concerto col conservatorio di fermo diventa un appuntamento fisso eh a gennaio e quindi speriamo che questo possa essere un faro riconoscibile anche per aggregare eh altre realtà di formazione musicale importanti del nostro territorio ecco dopo un anno dopo un triennio che purtroppo è finito con la pandemia e insomma che ha causato tutto quello che sappiamo non tante non solo a noi ma al mondo intero eh quindi dopo un triennio di consolidamento ora eh proprio ci vuole essere questa questo lavoro disteso verso il futuro con dei punti fissi eh forti eh organizzati sviluppati su tutto l'arco dell'anno rispetto ai quali vogliamo potenziare il nostro lavoro e anche attrarre eh cioè essere aperti è la natura della rete lirica a ulteriori collaborazioni eh e implementazioni che ci possono solamente arricchire speriamo poi più presto di riuscire a ritornare a proporre un terzo titolo lirico in cartellone ci eravamo arrivati nel diciannove insomma eh è chiaro che non disperdiamo no il patrimonio che la rete lirica in nel suo primo triennio d'attività aveva aveva costruito eh però mettiamo dei punti fermi chiari eh proiettati sul futuro delle linee continuative le potremmo in qualche modo definire a cui non vogliamo rinunciare oggi e sappiamo che non vorremmo rinunciare nemmeno domani la rete lirica lo sottolineo come sistema che valorizza territori comunità e professionalità eh è un sistema di gestione innovativo ancora unico in Italia ritirammo insieme il premio cultura di gestione nel duemila e diciotto rimane una eh un traguardo ineguagliato e un sistema lirico eh regionale come il nostro non esiste in Italia non perché eh adesso concorrono non solo i teatri ma tutto un sistema di produzione complessi artistici le maestranze tecniche c'è quindi anche un'attenzione allo sviluppo di giornate di lavoro alla professionalizzazione tutto però finalizzato alla costruzione di spettacoli di qualità e alla a far sì che grazie ai nostri palcoscenici eh professionisti giovani di grande talento non basta essere giovani giovani di grande talento possano avere l'occasione di debuttare un ruolo nuovo di affacciarsi eh in questo mondo bacchette eh già oggi di livello eh farci eh davvero farci godere il loro lavoro già oggi eh e poi un domani riportarlo in palcoscenici più grandi e perché no anche tornare non è che dalle dai nostri palcoscenici si debba solo partire è già successo in qualche caso eh nei nostri palcoscenici si può anche tornare per venire a debuttare un ruolo perché si lavora bene o semplicemente per il piacere di lavorare venti giorni in una vera produzione in una delle nostre bellissime città quindi la fondazione non non si impone limiti e ben consapevole dei propri mezzi li li utilizza al massimo ma senza porsi limiti né di collaborazione e né di sviluppo strategico futuro ehm non è un caso che la traviata oltre a essere in collaborazione con un altro circuito quindi non con altri teatri collaborazione poi con teatri le avremo Tosca con Savona insomma mano a mano le racconteremo eh ma la traviata mette in collaborazione due circuiti eh quello che è il più blasonato storicamente il circuito lirico lombardo con cui avevamo già collaborato in occasione del Falstaff e il nostro circuito regionale ma ma fa di più aggancia questa collaborazione a un concorso europeo per team creativi under 35 patrocinato da opera Europa che è il network europeo che riunisce anche i massimi eh teatri lirici europei appunto eh e dunque affida la creatività del nuovo spettacolo a un team selezionato con un concorso appunto under 35 internazionale ecco che non è solo la somma di energie ma diventa una somma anche di progettualità per dar vita a insomma processi e progetti sicuramente più complessi ma anche molto più interessanti dal punto di vista e dell'attualità e delle delle prospettive per cui ecco questi sono gli elementi che che mi sembrava interessante sottolineare poi i risultati della fondazione degli anni passati insomma li troverete nel comunicato in parte citati l'ufficio stampa vi farà avere anche un materiale di presentazione con con numeri però oggi guardiamo avanti e quindi volutamente non non li non li cito eh guardiamo avanti e grazie a tutti per essere con noi in questa ripartenza credo oggi più simbolica e sentita di sempre nella nostra storia allora l'opera è fedele alla partitura viene fatto un lavoro musicale musicologico per cui eh i cori vengono interpretati alcuni cori sono 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 tagliati altri vengono interpretati dai eh dai bambini e ragazzi partecipanti perché si tratta di progetti partecipativi che prevedono anche un percorso di formazione a monte in cui sono coinvolti gli insegnanti in primo luogo e poi le classi e anche le famiglie i ragazzi studiano l'opera preparano appunto gli interventi dove canteranno anche loro eh preparano oggetti con i quali partecipare nel corso della rappresentazione e via di seguito quindi con grande fedeltà alla partitura perché ci sono professionisti che si occupano di sviluppare questi percorsi che sono anche riconosciuti dal MIUR e riconosciuti a livello europeo per cui con tutto il rigore e la professionalità che serve c'è un lavoro appunto di sintesi alcuni passaggi dell'opera vengono sintetizzati grazie alla presenza di attori ma ci troveremo tutte le le aree più famose ci troveremo i cori principali appunto cantati dai dai bambini che partecipano c'è tutto il sapore dell'opera non è una rivisitazione eh è proprio si parte dalla dalla partitura originale diciamo che viene seguita diversamente ci sono attori per i quali vengono scritti dialoghi sì non può durare chiaramente tre ore magari come il capolavoro o anche flauto magico insomma parliamo di opere di durata importante eh quindi c'è una riduzione soprattutto operata attraverso la sintesi di alcune parti e di alcuni cori però con rigore eh musicale musicologico per cui l'opera non non ne risente di fatto viene presentata in tutta in tutti i suoi aspetti drammaturgici e musicali la cenerentola debuttò a febbraio 2020 eh diciamo periodo che è scolpito nelle nostre memorie debuttò si fermò ed è ripartita a febbraio di quest'anno ora è in circuitazione per esempio la settimana scorsa è stata allo Sferisterio a Macerata e arriverà nei teatri della rete alla fine di novembre sì in varie forme diciamo che chiaramente non ha potuto fare la tournée che solitamente questi progetti fanno che comincia sì 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 il flauto magico è nuovo è nuovo ma per quando arriverà da noi anche il flauto magico sarà in tournée debutterà a febbraio 2023 e sarà da noi a maggio 2023 gli altri due titoli sono nostre produzioni e pertanto debuttano nei nostri teatri allora Donatella Ferretti Katia Amati e Trasatti c'è qualcosa qualche intervento che ritenete di fare? Donatella prego sul valore di questo cartellone di questo progetto se no da chi è collegato non ti sa se no scelerei volentieri il microfono stavamo commentando anche con Francesco Trasatti sul valore e la corposità e il lavoro che c'è dietro questo cartellone dopo due anni come è stato detto insomma Ardui durante i quali comunque la rete non si è fermata e questa è una cosa della quale andiamo molto fieri titoli importanti proposte soprattutto di Opera Domani proposte per i ragazzi questa è una cosa alla quale la rete tiene molto ma insomma sottolineiamo anche il fatto della produzione dell'utilizzo delle degli artisti e delle maestranze perché poi uno dei compiti fondamentali della rete è proprio questo la selezione, la selezione dei giovani talenti o comunque degli artisti da inserire all'interno del palinsesto quindi insomma come diceva anche l'assessore Latini una realtà davvero di grande pregio che insomma le marche ha l'onore di avere al proprio interno costruita nel corso degli anni e quindi è davvero una grande soddisfazione oggi presentare questo programma a medio lungo termine grazie grazie per sottolineare il valore che ci sia la regione no perché poi con Giorgio giustamente diceva noi siamo partiti abbiamo vista proprio crescere e nascere la rete ed è bello e mi piace sottolineare vorrei che così proseguisse questa consapevolezza da parte della regione proprio del valore di questa operazione perché noi l'abbiamo e insomma sono convinto Giorgia se lo ricorderà l'abbiamo messa in piedi anche un po' tra virgolette da soli cioè eravamo noi come comuni no tutti insieme abbiamoci partite e proviamo a rendere come diceva giustamente ricordava Luciano prima un protocollo perché nacque come un protocollo di collaborazione all'interno del consorzio Marche Spettacolo per cui voglio anche ricordare e salutare Carlo Pesaresi che allora mise l'imprimatur come presidente del consorzio su questa operazione però nacque come un protocollo di collaborazione a cui noi dove noi mettemmo l'ambizione di trasformare questo protocollo in una fondazione io ricordo le prime riunioni in cui anche come dire qualche funzionario amico ma insomma allora ci disse ma chi mi mette in piedi un'altra fondazione di clirica chi comunica e collaborano attorno alle marche che ognuno fa il suo ci fu quasi e poi quando arrivò effettivamente il premio il premio cultura di gestione fu veramente una soddisfazione e lo dico e lo diciamo da assessori da persone che hanno veramente lavorato e su cui su questo lavoro di incontro costante se c'è stata anche un'amicizia un rapporto anche affettuoso perché veramente abbiamo costruito mattone dopo mattone questa cosa e quindi la chiudo qui però è fondamentale che ci sia consapevolezza che questo è un sistema cioè quando noi con Katia, con Donatella o col presidente per dire spingiamo Luciano a organizzare le audizioni a prendere contatti col conservatorio, a lavorare con le orchestre, le accademie di belle arti perché ad esempio anche l'accademia di belle arti c'è tutto il mondo formativo della regione, il mondo produttivo a creare le cosiddette filiere, le cosiddette filiere è perché veramente vogliamo creare un sistema interdipendente che rappresenta oggettivamente una cosa unica come è stata detta quindi era sottolineare il fatto di sentire la regione al nostro fianco consapevoli che stiamo facendo una cosa particolare, complessa ma molto bella Bene, allora se non ci sono altre domande e interventi non mi sembra vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per l'apertura di stagione con Mappet Grazie